quindi ora il mio obiettivo è tornare indietro giusto eccoci di nuovo sulla terraferma con molta difficoltà devo giungere tra l'altro visto che il nostro amico qui non è propriamente un combattente diciamo però in questo momento si sta rendendo utile non pensavo che la telecinesi contro i nemici fosse diciamo un una possibilità allora è lento sicuramente a combattere tutto il resto però ti dico forse forse aumentandolo di livello qualcosa riusciamo a tirare fuori il problema è aumentarlo di livello forse ho trovato un modo per utilizzarlo in combattimento in modo più facile allora un metodo per utilizzarti in combattimento c'è certo è un po lento anche nel colpo volante però si può fare forse qualcosina riusciamo a tirarla fuori oddio può prendere anche le cose a distanza allora allora non è utile comunque però te lo sto un attimo rivalutando almeno ora dobbiamo lasciare per forza giù qualcuno per poter andare avanti visto che l'amico qua ne troviamo tanti in giro cerchiamo di aumentare il pulcino qua sotto per quel poco che riesco ad utilizzarlo almeno cerchiamo di livellarlo il più possibile dai che secondo me poi dopo queste prime sezioni non lo troveremo più molto in giro a parer mio poi magari mi sbaglio eh è vero c'erano queste rocce qua l'altra volta che non potevamo c'erano queste rocce qua che l'altra volta non potevamo muovere eccolo qua una vediamo se adesso no non riusciamo ancora a passare allora proviamo a fare così no troppo pazzo eh vabbè magari tanto dovremmo tornare di sicuro dovremmo tornare eccoci di nuovo qua colosseo del tempio devi attraversarlo per raggiungere il deserto ok quindi raggiungi il il deserto che è da questa parte ok verso dove devo girare sconfiggi il potente scolpe il deserto ti servirà quel mutante tk che hai liberato dalla prigione eh ho perso il pulcino però è un problema spero che ritorni ok dobbiamo andare verso il ponte d'accordo quindi ora la via aperta perfetto però di qua ci eravamo già passati o sbaglio esatto probabilmente oltre questo pezzo ci sarà un pezzo che già l'altra volta non era disponibile certo grazie un prezioso tesoro mi immagino già quanto sarà e sai che ti dico se è davvero tanto allora lo facciamo con crash e non con il mutante sì se non fosse caduto come un cretino tra l'altro ecco qua me ne manca ancora uno ma non lo vedo aspetta cioè oltre a quello lì dov'è l'ultimo eh deve essere per forza in questa zona se no a meno che non sia più avanti ma ne dubito eh esatto dove può essere l'ultima cesta e a sto punto lo faccio ma solo per spizio personale ah ho capito ho saltato quest'elica qua sopra prima eccolo qua l'ultimo forziere che prima avevamo mancato ecco fatto wow che quantità immensa di aura sicuramente se avevi un moltiplicatore era di era meglio per carità però mi chiedo solo se stiamo andando dalla parte giusta ok sì dovevamo arrivare di qua spero più che altro che appaia di nuovo il pulcino perché se me lo dovevo portare dalla da prima ad ora faccio prima resettare il salvataggio e tornare indietro scusami non mi piace questa storia crash stai allerta eh esatto si è fermato da solo e poi mi dice stai allerta però penso che stiamo andando dalla parte giusta almeno speriamo non mi va di rifarmi tutto il percorso per niente oh di nuovo credo sia lo scorpio rilla arrivato a questo punto eh vuoi dire che faremo a botte? oh eccolo per fortuna meno male allora dicevamo quello il sasso no aspetta il sasso devo metterlo qua per caso ma scusami ma io già ci passavo prima no? aaaaaa ecco il posto crash ci servirà uno di quei mutanti telecinetici per entrare crash tranquillo tranquillo ci siamo già dunque tacca occhio non finirmi addosso che vorrei esatto evitare di scivolare ma tanto ci pensa da solo il gioco quindi ho scivolato da solo che dire stupido pulcino cretino ti odio ciao ha detto ha visto crash ciao crash grazie delle sfere ok andiamo a picchiare lo scorpio gorilla oh buongiorno sì certo ma che brutto era più bello la versione originale dai cioè ok tutto però allora il pulcino mi sa che ci conviene tenerlo quindi ah fuck ma va a cagare e io uso sono build intelligenza continuo a spasmare i colpi dall'alto eh mi spiace ah dovevo per forza usare oh no per favore ma lui non mi piace allora aspetta un attimo ma poi non è vero perché dovrei usarlo per forza è scomodissimo allora ma come ma me l'ha melato con un colpo ma scusami e allora niente eh torna su per favore e niente dobbiamo fare ok ok allora credo di aver bene o male compreso i suoi attacchi ora solo che molto scomodo da usare lui rispetto alla versione originale eh la tartarugona qui è stata deongredata totalmente no 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 è è impossibile usarla veramente proviamo così ma a questo punto mi sa che è il metodo più scomodo questo oh lui è fermo io gli sono sopra andate a cagare tutti me la cisero così sto anche aumentando il counter facilmente quindi che me frega vinco io stupido gorilla no pezzo di merda ok ok andata calmi tutti fammi ammazzare lui vieni qua tu madonna mia ok andata non vi azzardate mai ecco fatto no buono tu correttino di merda datemi le sfere nonostante non abbia un counter decente perlomeno iniziamo a prendere un po' tutto ma no lo scorpio rilla era meglio nella versione originale tutti erano meglio e non t'azzardare a farmi perdere il counter per niente eh di nuovo ecco fatto bravo vieni qua grazie ma io posso cambiarlo no lo scorpio rilla siccome è grosso ti serve lo scorpio rilla ok e no non mi va certo di lasciarlo per far ricaricare lui quindi finchè lo scorpio rilla tiene teniamo lo scorpio rilla ah può saltare perfetto non ce l'ho neanche pensato ho dato per scontato che fosse una feature del dello scorpio rilla no ah ecco bravo un tazzardare a perderlo e visto che siamo nel deserto a a Grazie a tutti.